Non ha le dimensioni degli stessi appuntamenti del Fondo Valle, ma il mercatino del calcite di Pian Disco ha dato comunque in questo 2018 il proprio contributo per la raccolta fondi destinate ai progetti, all'ospedale e per l'aiuto dei malati a casa. Soldatini dunque sempre in marcia, come conferma il responsabile di sezione Lucio Terrosi. Sinceramente tutti gli anni c'è stata sempre una grande affluenza, una grande giurosità da parte di chi viene per acquistare le cose e soprattutto da quei ragazzini, i soldatini che si prodigano con tutto loro stessi per sostenirci. Ovviamente non avete le dimensioni del Fondo Valle a livello di mercatino, ma ogni aiuto è importante. Esatto, noi non siamo tanti, ma siamo agguerriti, siamo motivati, sentiamo molto la manifestazione, quindi non facciamo concorrenza, non facciamo classifiche, ma siamo comunque bravi quanto loro. Vi siete insediati da poco, ora c'è un altro triennio molto importante. Esatto, adesso abbiamo cominciato ora il nuovo triennio di lavoro con il nuovo gruppo del Consiglio di Amministrazione. Ci sono diverse facce nuove, sono arrivate le prime riunioni e hanno mostrato un interesse e una motivazione importante, quindi ci fa ben sperare che anche per questo triennio potremo lavorare bene come abbiamo sempre fatto fino adesso.